Buona giornata a tutti, il tempo è poco e quindi sarò stranamente quasi telegrafico. Sono Giuliano Olivati, presidente FIAP Bergamo, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Volevo semplicemente informare di una cosa che abbiamo scoperto come FIAP Bergamo, come FIAP Lombardia, che la Commissione europea nel silenzio più assoluto sta cambiando la professione di agente immobiliare, con l'introduzione in prospettiva di una tessera professionale europea, che cos'è? È un tesserino simile a questo, simile al mio vecchio patentino, però europeo, quindi valido in tutta l'Unione Europea, in tutti i paesi dell'Eurozona, che consentirà a questo tesserino di circolare liberamente, lavorare liberamente a tutti gli agenti immobiliari di tutto il nostro continente. Come ci si arriva? Ci si arriva attraverso un processo che si chiama Single Market Act, cioè l'atto del mercato unico, o meglio del mercato unificato perché si vuole unire ciò che ancora unito non è, è un atto di indirizzo dell'ottobre del 2010 dell'anno scorso, che poi nel gennaio del 2011 ha prodotto l'inizio, l'innesco di una indagine europea promossa dalla Commissione della Unione Europea. Questa indagine è condotta in 10 paesi europei, tra cui anche l'Italia, su 30 categorie, tra cui anche gli agenti immobiliari e consultando tra gli altri i rappresentanti delle associazioni di categoria. Prima domanda, allora a questo punto ci chiediamo quali sono gli agenti immobiliari italiani che ci stanno rappresentando in questa consultazione? Non lo sappiamo, non sappiamo se sono iscritti a qualche federazione, non sappiamo se ci sono o se sono stati solo annunciati e poi non è stato consultato nessuno, non sappiamo se magari appartengono ad altri enti, ad altri organismi che parlano anche per conto nostro, lo scopriremo. Ma torniamo a bomba, questa commissione sulla base del single market tech nasce da un'esigenza, tutti conosciamo la direttiva Bolkestein sulla libera circolazione dei professionisti e dei prestatori di servizi nel 2007, diventata famosa, però pochi sanno che nel 2005 c'era stata una precedente direttiva dell'Unione Europea che è la direttiva sulle qualificazioni professionali, sul riconoscimento della qualificazione professionale tra i paesi dell'Unione Europea. Ebbene questa direttiva ha funzionato soltanto per le professioni regolate da albi ordini come per esempio i medici o gli ingegneri o gli avvocati o che altro, non ha funzionato per le professioni non regolamentate da albi ordini come la nostra. E quindi adesso l'Unione Europea vuole metterci una pezza e creare uno spazio commerciale, professionale e quindi economico europeo con la testa della professionale europea per consentire a tutti i professionisti di lavorare in tutti i paesi dell'Unione Europea. Che cosa comporterà? Comporterà che lo standard di riferimento degli agenti immobiliari che c'è già lo standard europeo UNI e EN 15733 servizi degli agenti immobiliari, a nostro parere sarà con ogni probabilità alla base di questo tesserino, cioè si dirà se tu vuoi lavorare in un paese europeo puoi farlo, puoi liberamente circolare, però devi chiaramente applicare questo standard. È per questo che noi ci muoviamo in anticipo rifugiendo da battaglie di retroguardia come FIAIP Lombardia e prima ancora come FIAIP Bergamo vogliamo applicare questo nuovo standard che è la carta d'identità degli agenti immobiliari europei, prima ancora che una carta dei servizi. Sicuramente il percorso logico e cronologico dell'Unione Europea è abbastanza chiaro. Nel 2005 abbiamo la direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali europee. Nel 2006 la direttiva Bolkenstein sulla libera circolazione dei professionisti. Questa direttiva ha dato vita poi ad uno standard comunitario perché era richiesto chiaramente dalla Bolkenstein nella premessa 114, diceva che gli agenti immobiliari europei devono dotarsi di uno standard a livello comunitario, di codici di condotta comuni perché altrimenti non potranno circolare in modo efficace e proficuo, creeranno dei problemi. Questo standard è stato creato ed è lo standard UNIEN 15733, servizi degli agenti immobiliari di cui parlavamo prima. È stato creato dal CEN, il Comitato Europeo di Normalizzazione, cioè di Standardizzazione, dicembre 2009 e alla fine nel gennaio 2011 è diventato norma UNI. Quindi gli italiani, i consumatori italiani volendo già possono richiederne l'applicazione, anche se questo ancora quasi nessuno lo sa. Quindi noi diciamo che questo processo di standardizzazione della nostra professione diventa adesso la base della tessera professionale europea. Non dobbiamo averne paura anche perché noi come FIAIP insieme alle altre federazioni degli agenti immobiliari abbiamo partecipato al tavolo comune con i consumatori europei del CEN, che è il tavolo che era convocato presso il CEN, il Comitato Europeo di Normalizzazione, di Standardizzazione. Non dobbiamo assolutamente a questo punto aver timore di ciò che noi stessi come regole abbiamo stabilito. Vedremo gli sviluppi e vi aggiorneremo in tempo reale. Vi ringrazio.